Un progetto che guarda il nostro territorio ma non solo, anche alla Toscana, quindi rientra la tematica del Parco Nazionale? Sì, rientra perfettamente, questo è un progetto, è un paradigma proprio di una tematica nazionale. In questi giorni si sta discutendo alla Camera in Commissione del Parco Nazionale del Magra, è un atto importante, significativo, che ci fa fare un salto di qualità. Se penso che la mia presidenza è partita con un ragionamento di abrogazione del Parco del Magra e adesso siamo al Parco Nazionale, questa è una grande soddisfazione personale e vuol dire che abbiamo fatto un gran bel lavoro rispetto al nostro territorio e rispetto al nostro Parco. Credo che il Parco Nazionale sia un volano importante per l'economia delle nostre valli, penso soprattutto alla Valdivara, ma non solo alla Valdivara, perché ci mette in un circolo nazionale ed europeo che permetterebbe di fare grandi interventi, grandi investimenti, avendo a disposizione un sostegno nazionale come un grande parco nazionale del fiume. E collegherebbe oggettivamente due realtà, quella della regione Liguria e della regione Toscana, facendo una sinergia importante e significativa per quello che riguarda sia le nostre valli, ma anche la Lunigiana. Io mi auguro che questa cosa possa andare in porta, abbiamo avuto adesioni importanti in questi giorni e anche in questi momenti e credo che sia il salto di qualità giusto e necessario di cui questo territorio ha bisogno.